guarda non puoi dire facendo questo giro cosa ti affascina di più ti affascina l'expo ti affascina il fatto di avere il mondo tutto intorno quando arrivi qui all'expo secondo me devi entrare con gli occhi di un bambino quando arrivi vedi questo enorme cavallino a dondolo e quello è un messaggio entra con gli occhi di un bambino lascia da parte tutti i pregiudizi e prendi tutto quello che di bello ti offre questo momento un momento magico nutrire il pianeta il cibo è vita ed è il vero lusso non c'è più la bontà del cibo perché è stato tutto troppo manipolato e quindi c'è un ritorno a quello che sono le origini ma se devo dire cosa mi porta a casa dell'expo mi porta i sorrisi di ragazzi che ho incontrato qui l'energia bella di tutta questa area vorresti fare tutto provare tutto anche un attimo è bellissimo è come quando tu porti un bambino a luna park non puoi dire a un bambino puoi scegliere due tre giochi perché rovini la giornata